Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Operazione antidroga della polizia per Halloween sequestrato, oltre un chilo e mezzo di droga Commemorazione dei defunti, celebrazioni religiose e civili a Fano Sanità, la Cisle di Fano denuncia servizi territoriali smantellati Bodista fanese, alla Filippides Run, l'ultra maratona da 490 km La seconda giornata di fila del tartufo da Qualagna registra il tutto esaurito Consegnata la ruscella d'oro all'amatissimo Giorgione Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Occhio alla Notizia Lo avete sentito nei titoli di apertura, la cronaca in occasione di Halloween Maxi operazione della polizia e un sequestro di oltre un chilo e mezzo di droga Sentiamo i particolari nel servizio Erano pronti ad immettere sul mercato dello spaccio per lo sballo di Halloween Ingenti quantitativi di droga, ma la squadra mobile di Pesaro e la sua sezione antidroga Con l'azione di intelligence e di controllo del territorio Li ha prima individuati e poi arrestati Sono due pesaresi, un uomo ed una donna, che sono stati arrestati in due operazioni distinte Trovati in possesso di sostanze stupefacenti e che ora si trovano nel caccere di Villa Fastigi Il questore di Pesaro, Antonio Lauriola, in concomitanza di questa ricorrenza anglosassone Che negli ultimi anni ha registrato un notevole proliferare di feste ed occasioni di aggregazione Per prevenire situazioni a rischio per le fasce più giovani della popolazione Ha intensificato i controlli sul fronte dello spaccio e del consumo di droga Questore ha disposto l'intensificazione dei controlli Finalizzati soprattutto al contrasto dei reati in materia di stupefacenti Sia davanti alle scuole, dove abbiamo ottenuto eccellenti risultati Anche con l'aiuto delle unità cinofili Sia appunto nel resto della città E anche questi controlli si inseriscono in questo settore, in questo filone E peraltro sono anche la dimostrazione del fatto che appunto lo spaccio Non è una prerogativa dei ragazzi extracomunitari Ma è svolto anche da cittadini italiani A finire nelle maglie della giustizia Il 30 ottobre è stata una giovane pesarese di 26 anni Di Santa Maria delle Fabrecce Incensurata e di professione barista I poliziotti hanno trovato nella sua abitazione Un involucro di 1,1 kg di marijuana Pronta al confezionamento di dosi Ed un altro involucro con 240 g di cocaina pura Ed altri 30 g già suddivisi Il giorno seguente la stessa sorte è toccata ad un trentenne Di origini calabresi Già con precedenti per reati connessi alla droga Al quale gli agenti durante un controllo nel quartiere di Pantano Dove si stavano già organizzando alcune feste Sono stati trovati nel suo appartamento 90 g di cocaina suddivise in tre involucri E 13 g di marijuana E gli sono stati sequestrati anche 400 euro in contanti Frutto probabilmente dell'attività di spaccio Ad entrambi inoltre sono stati ritrovati e sequestrati Bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi Dal materiale rinvenuto nelle abitazioni E dalle quantità di stupefacenti in possesso dei due arrestati Le ipotesi investigative del reparto antidroga Protendono per una funzione dell'uomo e della donna Di rifornitori di più piccoli spacciatori Inseriti negli ambienti giovanili e dello sballo serale Più che dei diretti spacciatori veri e propri Per la donna l'arresto è già stato convalidato Da parte dell'autorità giudiziaria Mentre per il trentenne si attende la convalida in queste ore In attesa i due rimangono presso il carcere di Villa Fastigi di Pesaro E anche a Fano nella notte di Halloween Gli uomini del commissariato sono stati impegnati In alcune vie della città per controllare la situazione In seguito a segnalazioni da parte di cittadini Su petardi e altri scherzi di non gradito gusto Nelle foto che vedete scattate da una nostra reporter di strada Una volante in zona Sant'Orso ha controllato lo svolgersi della serata Controllando un gruppo di ragazzini che stavano festeggiando Halloween E in questa foto invece vi mostriamo Grazie alle nostre segnalazioni Lo stato del Lido di Fano Come vedete ci sono bottiglie di vodka Succhi e bevande gassate A questo punto anche numerosi bicchieri Lasciati lì in balia del vento E sacchetti di patatine Sono state alla mercè del maltempo Una scempiaggine come ci dice il nostro segnalatore E questo pomeriggio, nelle primissime ore Poco prima delle ore 13 Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi feriti Si è verificato a Bellocchi Incidente stradale in via ventesima strada A Bellocchi di Fano Due veicoli convolti e due feriti lievi Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Fano L'incidente si è verificato poco prima delle ore 13 Tra una Skoda Octavia Condotta da un fanese di 67 anni Che era intento a svoltare a sinistra In via terza strada Quando è entrato in collisione Per ragioni ancora al vaglio della polizia locale Con una Fiat Punto Che si trovava alla sua sinistra Con alla guida una 23enne Residente a Bellocchi Entrambe le auto procedevano Nello stesso senso di marcia Ancona-Pesaro Per l'urto laterale La Fiat Punto senza controllo Ha proseguito la sua corsa E dopo un test a coda Ha impattato violentemente Contro un palo di cemento Dell'energia elettrica Ed una recinzione in ferro Finendo di rimbalzo Nuovamente sulla sede stradale Dopo un giro di 180 gradi Sul posto è intervenuta Un'ambulanza del 118 Che ha soccorso la 23enne E l'ha trasportata Al Santa Croce di Fano In codice giallo Per lievi ferite Anche l'occupante della scoda È stato ricoverato In pronto soccorso Con un codice verde Nessun'altra persona È stata coinvolta Nella carambola Della Fiat Punto Per i rilievi del caso È intervenuta Una pattuglia Dell'infortunistica Della polizia locale Di Fano Rimaniamo in tema Di incidenti stradali Tanta paura Ma solo contusioni Per il cardinale Edoardo Menichelli Finito fuoristrada Ieri con la sua panda Mentre rientrava A casa A San Severino Marche L'ex arcivescovo Di Ancona È andato a sbattere Contro un guardrail E la sua auto Si è ribaltata Soccorso dai carabinieri Da un'ambulanza Del 118 Il cardinale Menichelli È stato medicato All'ospedale San Severino E subito dimesso E oggi è 2 novembre In molti si sono recati Ai cimiteri cittadini Per la commemorazione Dei defunti Oggi è il giorno Della commemorazione Dei defunti È una ricorrenza Della chiesa latina Celebrata il 2 novembre Di ogni anno Il giorno successivo Alla solennità Di tutti i santi La ricorrenza È preceduta Da un tempo Di preparazione E preghiera In suffragio Dei defunti Della durata Di nove giorni La cosiddetta Novena dei morti Benché molti Lo considerano Come un giorno festivo La commemorazione Dei defunti Non è mai stata Ufficialmente istituita Come festività civile Ma a Fano Si sono unificate Le ricorrenze Anche del 4 novembre Dell'unità nazionale E delle forze armate E quindi La valenza Di questo giorno È duplice Nel ricordo Anche dei cauduti Di tutte le guerre Di chi è sacrificato La propria vita Per gli ideali Di libertà E giustizia Nel cimitero urbano Stamattina Alle 10.30 Alla presenza Della presenza Delle autorità Civili e militari Il vescovo Della diocesi Di Fano Fossombrone Cagli Pergola Ha celebrato La Santa Messa Bene È una giornata Ormai stabilita Di memoria Dei caduti Quindi pensiamo I tanti giovani Nella prima Seconda guerra mondiale Che hanno dato La vita In guerra Gente semplice Senza titoli Accademici Che nemmeno Forse sapevano Per chi morivano Però In fondo La patria Ha avuto bisogno Di loro Purtroppo In una guerra Forse oggi Però ci aiuta A ricapire Chi sono Gli eroi di oggi Bisogna avere Anche Una lungimiranza Non basta Ricordare il passato Dire ma oggi Chi è l'eroe oggi Quello che va in guerra Forse no Quelli che vanno Nelle missioni di pace Sono a pagamento Oggi forse Ricapire L'eroismo quotidiano Del bene comune Della società civile L'eroismo del lavoro L'eroismo di chi Investe nel lavoro L'eroismo di chi Crede proprio Al bene di tutti Forse dovremmo Purificarci Su questo Davvero Penso all'eroismo Oggi Negli ospedali Parliamo Sì degli ospedali Ma ci scordiamo Le persone che stanno dentro Ci scordiamo Le famiglie Che hanno malati Terminali Ci scordiamo Le famiglie Che hanno una fatica enorme Con i malati psicologici L'eroismo di chi vive Nelle comunità Credo che sia Giusto oggi Andare oltre Se noi viviamo Solo di nostalgie Non di presente Questo è pericolosissimo Creiamo i monumenti Ma non li riconosciamo Allora ognuno Dovrebbe dire Ma chi è l'eroe Della mia vita Oggi Può essere mio padre Può essere mio nonno Può essere il defunto Può essere la persona onesta Può essere la persona Che ci mette la grinta Può essere la persona Di buona crianza La persona che non Umilia l'altro Credo che questo Sia fondamentale A me Sennò siamo solo Dei nostalgici E non degli incarnati Oggi Tutto il creato Vive in te Le celebrazioni religiose Si sono così affiancate A quelle civili Con la deposizione Da parte delle autorità cittadine Di corone dall'oro Nei monumenti Dedicati ai caduti Per tutti Comunque un giorno In cui ricordare Ripensare Onorare Chi non è più con noi Ma comunque Rimane parte di noi E si fidano Nonostante tutto Per noi è uguale Sapete E sul tema Della sanità Cambiamo argomento È tornata ad accendere I riflettori Su questa tematica sociale Un'associazione di categoria Un sindacato La CISL Di Fano Che denuncia Stando anche Alle segnalazioni E al tessuto sociale Che ha sotto controllo Come associazione Il totale smantellamento Dei servizi territoriali Sentiamo Allora Si sente parlare Spesso Di ospedale unico Di insomma Di aria vasta Insomma Però questo Non è l'unico L'unico problema L'unica necessità Di un territorio A Fano Per quanto riguarda Il tema della sanità Sì Riteniamo Che la questione Della sanità Non sia esclusivamente La qualificazione Dell'ospedale Con la costruzione Non sappiamo Né dove Né come Né quando Né con quali soldi Del famoso Ospedale unico Ma crediamo Che il potenziamento Dei servizi Sanitari Territoriali Sia fondamentale Per la cittadinanza Servizi di prevenzione I servizi ambulatoriali Fisioterapia Trasporto sanitario La rete dell'emergenza Urgenza Cioè Tutti quei servizi Che qualificano L'offerta sanitaria Perché l'offerta sanitaria Non è solo ospedale Ma appunto Servizi territoriali Diffusi Efficienti Ed efficaci Nel territorio E voi dite questo Perché avete un feedback Continuo Dall'utenza Degli anziani Da voi Gravitano Tutta una serie Di figure Che vi lancia Questo allarme Questo grido Di necessità Sì Sono piccoli segnali Che però Registrano appunto Una destrutturazione Dei servizi sanitari L'esempio Del punto prelievo A Marotta Dove per fare un esame Del sangue Ci vogliono Tre viaggi Ci hanno riferito Che la stessa cosa Succede al distretto Di Mondavio La scomparsa Della fisioterapia Perché il servizio Di fisioterapia Che era all'interno Dall'ospedale Santa Croce Essendo diventato Santa Croce Marche Nord Quel servizio Non è più previsto Per cui le persone Sono costrette A peregrinare Per il territorio provinciale La vicenda Del trasporto sanitario Che è gravissimo Perché Il trasporto sanitario E sanitario Non è un trasporto sociale Per cui per pazienti Con gravi patologie O la dialesi Pazienti tumorali E poi Tutto quello che succede Nell'entroterra Con la chiusura Degli ospedali E la mancata realizzazione Della rete Della rete ospedaliera Per cui l'unico punto D'accesso Per le cure sanitarie È il pronto soccorso Per non parlare Della prevenzione Di tutto quello Che sta Nel sistema sanitario Come prevenzione Per la salute E parliamo di eventi Del nostro territorio Giorgione In arte Giorgio Barchiesi Entra a far parte Del gran ordine Della Ruscella d'oro Di Acqualagna Il grande riconoscimento Della capitale Del tartufo Le ultime In ordine di tempo A ricevere Questo riconoscimento Sono stato il maestro Della cucina italiana Gualtiero Marchesi E Alessandro Borghese Questo riconoscimento Mi apre il cuore Mi fa capire Che alla fine Non sono così Sconosciuto Queste le sue parole Il cuoco più divertente Della tv E amato da tutti Si emoziona Quando il sindaco Andrea Pierotti Gli conferisce Il prestigioso premio Se voi mi date Un premio così Dice Giorgione Rivolgendosi al sindaco E alla folla In delirio Penso di essere speciale Questo riconoscimento Mi regala Grandi soddisfazioni E venendo la manifestazione Gli hotel hanno registrato Il tutto esaurito Il sold out Nei ristoranti E al salotto Per gustare Con i cooking show Di Iro Iroito Shoda Chef su Sky Gambero Rosso Channel E della prova Del cuoco Il primo novembre È stato un giorno Con tanti visitatori Da tutta Italia Ma anche stranieri Che sembrano Voler approfittare Di queste bellissime giornate E soprattutto Sono attirati Da sua maestà Il tartufo Il grande protagonista Di queste giornate Di novembre E proprio A riguardo Di questa manifestazione Vi ricordiamo Che il 4 novembre È previsto L'arrivo Del ministro Dell'ambiente Galletti E quindi Insomma Ha un altro Weekend Di gusto Gusto Sicuramente Per gli amanti Di questo Tubero Così famoso E Chiudiamo Con una di sport Si chiama Paolo Aiudi È un podista Fanese Della Fano Corre E si appresta Pensate A correre Il 18 di novembre Una corsa massacrante Atene Sparta Atene 490 km Un calvario Che dovrà essere Percorso In un tempo Prestabilito 4 giorni E 8 ore Soltanto 9 italiani Parteciperanno A questa gara A questa competizione E lui È uno di questi Sentite la sua testimonianza Paolo Allora Come ci si prepara Una competizione Così impegnativa Immagino che anche mentalmente Ci sia un lavoro Importante Da fare Sì Ci sia un lavoro Importante Mentalmente Perché La mente È quello Che sopporta Tutto Poi chiaramente Bisogna avere Delle Presposizioni Fisiche Perché Bisogna Saper Affrontare Anche i vari Punti Negativi Che ci sono Durante una gara Di questo genere Non so Dolori muscolari Oppure Visciche Dolori I tendini Queste cose Qua Al di là Dei chilometri Che sono veramente Tanti Quali sono le difficoltà Di questa gara Cioè Uno dice 490 chilometri E basta Tanti mi dicono Io non faccio Fatica a farne anche 100 Con la macchina E c'è la famosa Spartaton Che è famosissima Dove tutti Ambiscono A parteciparvi E dove è difficile Anche essere iscritti Perché Ci vogliono Dei tempi Particolari Quei pochi Che rimangono fuori Possono solo sperare Di essere sorteggiati E già che finisce Quella Che è solo l'andata Arrivare diciamo A Sparta Dove c'è poi La consacrazione Baciando i piedi Della famosa statua Di Leonida Che è quel famoso Guerrero greco Due anni fa Un'altra organizzazione Sempre greca Ha deciso di fare Questa famosa Filippides Che è tornare indietro E quindi Pensare di essere là Tornare Quando arrivi là Uno dice Ha finito La Sparta Invece tu devi Solo pensare Di baciare E tornare indietro Non è Non è semplice Insomma La tua è una sfida Nella sfida Perché tu Parti con un handicap Fisico Per un infortunio Quindi oltre A riuscire a portarla a termine Devi vincere anche Contro te stesso Purtroppo ho avuto Un grave infortunio Al tendine d'Achille Mi sono operato Il 7 di settembre E da lì Tra l'altro I medici Che mi operarono Mi sconsigliarono Di ricominciare A fare Gare Di lunga durata L'unico handicap Io sono preparatissimo Sono preparatissimo Da questo punto di vista mentale Perché lo sono di natura Dal punto di vista fisico Perché mi sono allenato bene Ho curato l'alimentazione Per cercare di portare Meno chili possibile Dietro appunto Per questo discorso Il tendine Però il tendine È un punto interrogativo Io il massimo Il massimo che ho fatto D'allenamento Sono 50-60 km Ne devo fare Tanti altri Quindi non lo so Speriamo Speriamo che regga Quando ritornerà Bene Chiudiamo qui Questa edizione Di Occhio alla notizia Dopo di noi Box come sempre E poi anche in cucina Con lo chef Vedete in sovrimpressione Però il numero Dove inviare Le vostre segnalazioni Che per noi Sono importantissime E quindi A seguire Dopodiché Ci sarà Uno speciale La presentazione Della squadra Maschile e femminile Di pallavolo Dell'Apav Bene Questo è tutto Grazie per essere stati In nostra compagnia L'informazione torna Domani mattina Alle 7.30 Con Occhio ai giornali Buona serata A tutti voi Grazie per la visione